E, iniziata ieri, in occasione dell'Immacolata la nuova fiction firmata Mediaset Sacrificio d'Amore. La serie vede nel cast grandi attori italiani tra cui Francesco Arca, Francesca Val Torta e Giorgio Lupano. La produzione invece è guidata da Daniele Carnaccina, per un totale di 22 puntate. Per la messa in onda della prima puntata molti sono stati gli ascolti e le reazioni positive del pubblico, soprattutto sui social. L'unica lamentela forse è stata ricevuta per le troppe puntate. Se non avete visto ieri la puntata ecco un breve riassunto. Carrara 1913 Brando Prizzi è un dipendente idealista dell'ingegnere Corrado Corradi, che gestisce la cava di marmo del paese. Brando ogni giorno è impegnato socialmente per migliorare le condizioni disumane di lavoro in cui si trova insieme ai suoi compagni una mattina. Proprio a causa di queste terribili condizioni lavorative, uno di loro resta ferito e Brando lo seguirà in ospedale. Qui Prizzi incontra Silvia Corradi, volontaria dell'ospedale che non riuscirà più a togliersi dalla testa. Maddalena Prizzi sorella di Brando intanto viene presa di mira dalla governante della casa Augusta Maffei in cui lavora come cameriera, poiché quest'ultima ha scoperto che il nipote, Tommaso, ha un interesse per la domestica. Tommaso è il precettore di Simone Corradi, bambino di 10 anni figlio di Silvia e Corrado. Intanto Alberto viene spiazzato da una sconvolgente notizia a una figlia con una contadina e per questo gli hanno combinato il matrimonio con l'aristocratica Guendalina Volpi. Anticipazioni Cosa succederà a Silvia e Brando nella prossima puntata di venerdì 15 dicembre? Anche la donna, infatti, nonostante si sia sposata per amore sembra cedere al fascino di Brando. Secondo le prime indiscrezioni un secondo incontro tra i due avverrà proprio nella cava di Corradi in cui Silvia direcherà per accompagnare un famoso scultore. Quali saranno le reazioni dei due giovani? Tommaso invece è disposto a tutto per amore di Maddalena ma la signorina Maffei per lui sognava un matrimonio altolocato con Carlotta, cugina di Corradi. Alberto continuerà la sua storia con la contadina e questo darà non pochi problemi alla famiglia Corradi. Intanto per il nucleo familiare un altro problema è costituito dall'avvicinarsi delle elezioni. Intanto per il nucleo familiare un altro problema è costituito dall'avvicinarsi delle elezioni. Grazie.